ciao amici chi ha detto che per dimagrire bisogna fare i salti mortali più o meno tutte le riviste di salute fitness beh io dico di no anzi lo dice la naturopatia che studio e pratico da 30 anni nella mia esperienza non servono salti mortali per dimagrire ma uno stile alimentare consapevole e cosa vuol dire usare i cibi di tutti i giorni per dimagrire questa è la base funzionale del dimagrimento a cui aggiungere qualche aiutino extra e oggi vediamo 4 cibi di tutti i giorni che potete usare per dimagrire se vi piace l'idea mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 yogurt naturale parlo di quello bianco dal sapore acidulo tipo quello greco attenzione solo se siete intolleranti al lattosio 2 spinaci il cibo preferito di braccio di ferro è una forza anche per dimagrire si possono mangiare sia crudi in insalata sia per fare smoothie golosi sia cotti con il limone il contenuto di ferro vitamine clorofilla li rende molto nutrienti poi contengono tilacoide un principio attivo che aumenta il senso di sazietà dato dalle fibre siamo a metà video è il momento di iscriversi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non lo avete fatto e se trovate utili i miei video abbonatevi al canale per sostenere con un piccolo contributo il mio grande lavoro di divulgazione 3 salmone per chi non è vegano vegetariano il salmone è un'ottima alternativa alla carne contiene proteine magre di qualità insieme ad acidi grassi omega 3 fondamentali per dimagrire 4 lenticchie quando dicevi di tutti i giorni non scherzavi guarda che sono un cibo speciale questo cibo popolare nasconde un segreto amico della linea che le rende migliori degli altri legumi infatti i ricercatori hanno scoperto che sono tra i cibi sazianti che attivano il meccanismo di sazietà del cervello per questo sono amiche della linea oltre ovviamente al contenuto di proteine magre minerali e fibre sapevate che si può dimagrire senza faticare scegliendo altri cibi che aumentano la sazietà trovate quali sono e come mangiarli nel mio ebook dimagrire con i neuroni della sazietà è una strategia molto interessante con basi scientifiche chi l'ha provata ha avuto grandi benefici ora condividete questo video sui vostri social siamo in stagione di dimagrimento no mangia sano e dimagrisci